Ben trovati all'appuntamento con dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Come è nostra abitudine affrontiamo tre temi diversi uno dall'altro. Il primo estremamente tecnico perché parliamo della Via Libera al bilancio consolidato 2023. Si è espresso il Consiglio a maggioranza con 19 voti a favore. E poi i premi a Simone Melis e a Matilde Niannacone per quanto riguarda le Olimpiadi di Matematica. Parliamo anche dei bandi Toscana in Sport e la Toscana che fa bene presentati dal Corecom. Il primo tema quindi riguarda proprio la recente seduta d'aula del Palazzo del Pegaso che ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato della regione per l'anno 2023. Si registrano 19 voti a favore e 11 contrari. In sintesi questo bilancio mette in evidenza i risultati complessivi del gruppo amministrazione pubblica ovvero regione più enti e le società considerate rilevanti che sono così soddivisi. Accanto al Consiglio regionale toscana quale organismo strumentale ci sono 25 enti strumentali controllati e le loro società partecipate indirette, 9 enti strumentali partecipati, 9 società comprollate e loro partecipate indirette e poi 4 società partecipate. Questi dati cosa ci dicono? Ci dicono che intanto c'è un valore della produzione come si dice in termini economici cioè delle attività che sfiora ai 12 miliardi. Di questi oltre l'80% fanno capo all'ente regione. Il risultato economico della gestione 2023 ci consegna un dato positivo per circa 90 milioni di euro che sono in netto miglioramento rispetto al consolidato del 2022. C'è un aumento di 60 milioni di euro che vanno a beneficio appunto della situazione patrimoniale. I conti avrebbero potuto essere ancora più migliori qualora avessimo potuto beneficiare di risorse come il payback in materia sanitaria 392 milioni rispetto al quale la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Regione Toscana appunto nel diritto di esigere queste risorse oltre a circa 120-130 milioni di minori trasferimenti dal Fondo Sanitario regionale. Ecco ciò nonostante la situazione complessiva ecco degli enti che compongono il perimetro del bilancio consolidato è una situazione positiva. Un bilancio che chiude in equilibrio è importante tenere in sicurezza i conti della Regione Toscana, denota solidità della Regione ma anche del gruppo della Regione, tutte le aziende che fanno e afferiscono alla Regione Toscana. È evidente che questo dimostra la nostra tesi come nel 2023 siamo stati in equilibrio, noi siamo convinti che questo equilibrio lo si possa raggiungere anche nel 2024. Questo spiega la battaglia che Italia Viva ha fatto contro l'aumento delle tasse e la battaglia che faremo nei prossimi tre mesi per rivedere quella misura per cercare di tenere in equilibrio i conti anche nel 2024 in equilibrio di bilancio senza chiedere nessun sacrificio ai cittadini toscani riducendo le tasse e soprattutto portando avanti l'avvertenza da parte della Regione Toscana nei confronti del payback per riottenere un credito dovuto. In primo luogo il fatto che abbiamo discusso un atto così importante nella totale assenza della Giunta e del Presidente. Quindi quelli che sono i conti della Regione, quindi un momento fondamentale di verifica dei quattrini dei toscani e di come vengano utilizzati totale assenza di Giunta e di Presidente della Regione. Così come l'avevamo già messo in evidenza anche durante la commissione controllo, l'atto dei revisori dei conti, il parere, arriva costantemente in grande ritardo ed è un atto spesso di natura poco più che formale e anche questo non è utile all'approfondimento perché avremmo invece avuto la possibilità con una tempistica diversa di chiamare e ascoltare i revisori, approfondire meglio determinati aspetti e portarli in aula per favorire un confronto più ampio. Detto questo, noi abbiamo rilevato anche come nell'arco del bilancio consolidato molti dei numeri che riguardano le società partecipate sono e arrivano in grande ritardo. Si riferiscono addirittura agli anni del 2022. C'è addirittura uno di questi enti che è in liquidazione e che ha i numeri fermi al 2015. Vi immaginate voi che tipo di ragionamento si possa fare dal punto di vista della precisione dei numeri. Nel nostro ruolo di opposizione non possiamo che mettere in evidenza le parti meno chiare e comunque ci sono alcuni punti oscuri che andranno approfonditi. Le Terme di Montecatini che hanno un disavanzo perenne e profondo. certe situazioni di alcune partecipate che sono quasi inutili che la regione mantenga. E infine tutto questo è depurato, ma per legge naturalmente, di tutto il problema sanitario che rimane un grosso buco nero da chiarire e da cercare di portare a compimento nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda i dati negativi colpisce il dato negativo di sviluppo toscana che fa un utile negativo, scusate una perdita di circa 280 mila euro e naturalmente nel complesso si tratta di un'organizzazione enorme che dà servizi che per noi giudichiamo assolutamente insufficienti. Festeggiamo anche le eccellenze della Toscana. Sono ragazzi dei sei che hanno partecipato a rappresentanza dell'Italia alle Olimpiadi di Matematica 2024 questa estate. In Inghilterra due erano toscani. Simone Melis e Matilde Iannacone hanno portato a casa una medaglia d'argento e una di bronzo. Il Consiglio regionale della Toscana quindi ha voluto premiare i due ragazzi per i risultati ottenuti e per incoraggiarli poi a coltivare questi loro talenti. Intanto voglio fare i complimenti più vivi, più sinceri a nome mio di tutta l'Assemblea legislativa a Simone e Matilde perché hanno portato in alto con i loro risultati il nome della Toscana in Italia e non solo. Io devo dire che ho un pizzico di invidia, avrei voluto provare a farlo anch'io ma non ci sono riuscito e quindi vedo in questo loro impegno, in queste loro capacità, in questi loro talenti che vanno sempre allenati giorno dopo giorno qualcosa di unico, di bello e di speciale. A loro un messaggio, state sempre sui temi di frontiera, non date mai per scontato che quello che c'è ci sarà anche in futuro. Cercate sempre di scoprire qualcosa di nuovo, di bello e attraverso i vostri occhi possiamo leggere un futuro migliore. Simone Melis e Matilde Iannacone rappresentano l'orgoglio della nostra regione in un contesto molto importante, quello delle Olimpiadi di Matematica che è un percorso che vede impegnati nelle preselezioni soltanto in Italia oltre 200.000 ragazzi, quindi hanno passato le selezioni in Italia in oltre 1.500 istituti. I nostri due istituti, quello Pisano, l'Istituto Dini e quello Foresi di Portoferraio, hanno mandato due ragazzi, due eccellenze della nostra regione che noi oggi siamo qui ad onorare e siamo orgogliosi del loro percorso, del loro talento e crediamo che questo sia il messaggio anche per tanti ragazzi che studiano, che fanno percorsi di studio, di approfondimento e che possa essere da stimolo anche per tanti altri giovani. Siamo stati una settimana a metà luglio a Bath in Inghilterra e eravamo sei noi italiani e tre accompagnatori. L'esperienza mi è piaciuta molto, poi fortunatamente conoscevo anche gli altri ragazzi che sono venuti con me e poi la gara in sé mi è piaciuta, in generale i problemi erano carini, mi è piaciuta e poi ho conosciuto tante persone da altre parti del mondo e si è stata una bella esperienza. La mia avventura con la matematica è cominciata al liceo, in terza liceo, quando ho scoperto, il liceo lo facevo all'Elba e ho scoperto cercando su internet appunto che esistevano le limpidi della matematica e questo mi ha aperto un mondo, tutto un insieme di problemi nuovi, un modo di ragionare diverso. Quindi mi sono interessato, sono entrato nel mondo delle gare e alla fine sono arrivato appunto alla gara che ho fatto questo luglio a Bath. L'esperienza in sé per sé è stata molto preziosa, sia per le persone che ho conosciuto, sia per i problemi e tutto l'ambiente con cui una persona entra in contatto una volta che si trova là a ragionare con tante persone con la mia stessa età e la stessa passione, si crea proprio un bel feeling. E intanto sono stati presentati i bandi Corecom Toscana in spot 2024, Non Abbocchiamo e la Toscana che fa bene, si tratta della terza edizione per la Toscana che fa bene bando per il conferimento di un premio alla miglior campagna di comunicazione sociale. Toscana in spot 2024, Non Abbocchiamo invece premerà i migliori spot video realizzati sul tema del contrasto alle truffe telefoniche e online. Io sono davvero felice di poter presentare questa iniziativa, anzi questa iniziativa insieme al Corecom oggi qui. Da un lato la comunicazione sociale e l'importanza delle riveste per tante cittadine e tanti cittadini, un'iniziativa che portiamo avanti insieme al CESVOT ormai da diversi anni e che dà il senso anche di un punto di vista differente come regione vogliamo avere. E poi l'altra iniziativa, altrettanto importante, che è un modo per sensibilizzare le cittadine ai cittadini sulle truffe che spesso avvengono attraverso i canali informatici, attraverso iniziative come queste noi vogliamo dare il nostro contributo per avere una società ancora migliore e per dare ai cittadini tanti strumenti per accorgersi purtroppo che le truffe sono tante e avvengono anche in maniera molto semplice, quasi inosservata. Noi avevamo già pubblicato i due bandi, perché sono due bandi. Uno è la Toscana che fa bene, l'altro è la Toscana e-spot già a metà luglio, già avendo fatto una comunicazione pubblica in questo senso. Ora siamo a ridosso in qualche modo, mancano ancora 20 giorni per partecipare a questi due bandi a cui teniamo molto, a cui tiene molto anche la regione toscana e i vari organismi che partecipano. Uno è la Toscana e-spot che è quella legata a fare dei video di massimo 60 secondi rivolte ai residenti in Toscana a partire dai giovani della Toscana e quest'anno il tema è quello delle truffe telefoniche, delle truffe telematiche e il titolo è appunto non abbocchiamo, per cui noi chiediamo che ci vengano così inviati questi video che poi verranno premiati, avranno anche dei riconoscimenti economici con un totale di 10.000 euro premio da 5.000, 3.000 e 2.000 euro. E questo è chiaramente un tema molto sentito, molto d'attualità e servirà per sensibilizzare la popolazione a partire dalla popolazione più fragile e vulnerabile. L'altro bando importante che facciamo in collaborazione col CESVOT e con la regione toscana invece è quella, la Toscana che fa bene e si rivolge a tutto quello straordinario patrimonio di mondo che è il volontariato, l'associazionismo, il no profit e non solo si rivolge a premiare le migliori campagne di valore sociale, di interesse pubblico per cui è in qualche modo un riconoscimento e una valorizzazione di tutto quel lavoro importante che viene fatto e qui possono partecipare sia gli enti no profit, sia le istituzioni e i privati cittadini. Il CESVOT è da sempre attento alla comunicazione sociale, abbiamo un archivio di più di 3.000 documenti da 68 paesi del mondo, quindi è un archivio importante e quindi siamo molto contenti di partecipare insieme a Corecom a questo concorso che ormai è la terza edizione, le altre edizioni sono stati premiati delle cortometraggi molto belli, il primo mi ricordo le riunioni ciechi di Prato, l'anno scorso dell'Avis quindi speriamo che il terzo settore anche quest'anno possa partecipare a questa campagna perché penso davvero che ce ne sia bisogno, perché la comunicazione sociale non è un marketing commerciale ma si rivolge proprio ai cittadini per invitarli a degli stili di vita diversi e quindi per cambiare in qualche modo la nostra società. E ci conclude anche il nostro appuntamento con Dentro il Consiglio, vi ricordo per tutte le informazioni e gli aggiornamenti il sito www.inconsiglio.it, vi aspetto come sempre qua tra sette giorni Dentro il Consiglio. Grazie per la visione!